Parcheggi gratis a Lecco per favorire la ripartenza delle attività e scontro tra Forza Italia e Ambientalmente. Il giugno lecchese sia il mese della sosta gratuita, la proposta del consigliere comunale forzista Emilio Minuzzo. Da inizio maggio il comune ha riattivato le tariffe ai parcheggi, una scelta sbagliata poiché la mobilità è cambiata, spiega Minuzzo, e i lecchesi preferiscono spostarsi con il proprio mezzo, in questo momento di ritorno alla normalità, per questo volendo aiutare anche le attività commerciali già provate da questo lungo lockdown, ritengo sia indispensabile stimolare l'utenza a tornare a frequentare il centro città, anche a scapito delle casse di linee Lecco. Per questo, la proposta del consigliere comunale, l'amministrazione comunale renda gratuite le soste nei parcheggi cittadini per tutto il mese di giugno. La copertura, secondo Minuzzo, può essere trovata nel risparmio dato dalla più che è probabile cancellazione delle manifestazioni e dei fuochi d'artificio del giugno lecchese. Non è d'accordo con la proposta Ambientalmente, neonato gruppo consigliare guidato dall'assessore Alessio Dossi. In questo periodo di lockdown ci sono mancati il traffico, il rumore, la ricerca di un parcheggio, sicuri di voler tornare proprio in tutto alla vita di prima, chiedono Renata Zuffi e Michele Zanesi, portavoce di Ambientalmente. Sosta gratuita per tutti per festeggiare, per premiarci e imbottigliarci più di prima nel traffico? No grazie. Incentivare l'uso dell'auto con le soste gratuite renderebbe solo più difficile trovare sosta in centro Lecco, dicono, poiché sosta libera vuol dire gara, chi arriva prima riesce a starci più a lungo. Ipotizziamo invece di scrivere regole della sosta per chi vive situazioni di fragilità o di necessità. Ambientalmente propone quindi di testare su Lecco un'esperienza di urbanismo tattico, scegliere una o più strade del centro storico o uno dei centri delle frazioni storiche delle Lecchesi per sperimentare una moderazione del traffico, magari anche una pedonalizzazione dei punti che si prestano, a cui far seguire poi una verifica degli effetti positivi e un ampliamento del progetto Zona 30 ad altre strade o altri quartieri.